... Ottimismo, Silvia, ottimismo! Che schifo! Porca trotta! Mi hanno rifiutato il trasferimento a Milano. Mi sono spacciato per disabile. E bene, non voglio disturbarla ulteriormente. Arrivederci! Licenziato, trasferito. Al sud. Al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino Napoli? A Napoli? Ci resterai due anni. Due anni? Mi hanno detto che qui al meridione facciamo un gran caldo. Prima la posta la portavano i cammini. Poi il direttore era un betwi. Che fa' dove? Ripiglia per il culo. Mi hanno mandato apposta per farvi lavorare. Quindi cerchiamo di ottimizzare il lavoro. Grazie. No, è l'odore di snaffa d'alina, che mia mamma la mette avuto. Ma perché sono i topi? Eh, i topi saranno. I nonni sto pettando. Ma vivono qui? No, si hanno fettato monologo a fianco. E tu? Quella è cioccolata, mischia dal sangue di maiale. Ma vederli così sembrano normali. Io, viva! In realtà sono scuri, piccoli, tracagnoti. Buongiorno a tutti. Se gli fai vedere che hai le palle, scappano. Non mi costringa a metterle una nota a disciplinare. Potrò mai ne va a uso. Non farei temerare come al tuo solito, eh. Direttore! Non fa piena di paura, direttore. Io vorrei fare una sorpresa. Ognuno di noi ha messo qualcosa. Per cominciare può andare bene, no? È meraviglioso. Quante? Noi l'abbiamo fatto per amicizia. Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno. Poi ci conosceremo. Che si fa stasera? Abbiamo organizzato niente? Direttore. Venerdì. Non tornate a casa. Direttore quando un forestiero viene al sud e piange due volte. Quando arriva e quando parte. Io adoro il sud! Io domani vengo lì da te. No! Non puoi venire da venire. È pericolosissimo. Arrivano! Azioni! Poi vengono! Vieni! Vieni! Vieni!